Presidente della provincia Zaffiri, sappiamo le difficoltà a cui vanno incontro ogni giorno le province, però voi avete voluto rinnovare il vostro portale, il vostro sito internet, dando la possibilità a tutti i comuni di partecipare attivamente. Sì, una delle prime cose appena mi sono insediato, parlo ovviamente a nome di tutta la provincia, è stato quello di verificare il sito e di rinnovare, ma perché per dare più, come dire, ampio spazio alla comunicazione della provincia e soprattutto innovare quel sito perché era obsoleto di circa 6-7 anni, 8 anni. Quindi oltre a innovare e migliorare quel sito abbiamo proprio voluto due nuove finestre, innovare il nostro sito e due nuove finestre, una dedicata ai comuni, quindi è stata chiamata questa finestra Notizie dal territorio per dare la possibilità a tutti quei piccoli comuni di avere una finestra più ampia per promuovere il territorio e le proprie attività e far conoscere le peculiarità della nostra provincia perché ogni comune ha la sua peculiarità. Un'altra è quella per dare comunicazione di tutte le attività che si stanno svolgendo a livello di opere pubbliche all'interno della nostra provincia, quindi strade e scuole, le due funzioni fondamentali che abbiamo, uno può sapere lo stato dell'arte, se posso usare questo termine, dei lavori pubblici. Ovviamente daremo il sito già operativo, quindi da oggi i comuni che vogliono, con le proprie credenziali, i propri referenti, già possono essere operativi e cominciare a caricare nella propria finestra, nel proprio spazio, le proprie attività. Quindi noi siamo efficienti a tutti gli effetti, ovviamente con il passare dei giorni e del tempo questo sito diventerà più ricco e più importante per tutta la provincia.